Prossimità e sicurezza, è partito il nuovo servizio della Polizia Municipale di Gubbio che farà tappa in tante frazioni del territorio eugubino, un presidio di sicurezza in cui i cittadini si possono rivolgere per segnalazioni, richieste, soprattutto utile per gli anziani. Ecco, qual è lo scopo di questo servizio? Questo è un servizio che la Polizia Locale di Gubbio ha ripreso dall'amministrazione, dove magari il territorio essendo molto ampio, dove magari la pattuglia è impegnata in molteplici lavori, grazie al nostro ufficio mobile facciamo il giro delle frazioni e raccogliamo le testimonianze, le problematiche e cerchiamo di riportarle nei vari settori del comune per poter risolvere e cercare di dare una mano al cittadino. E ascoltare le segnalazioni e le sue problematiche. Quali sono le problematiche che vengono più spesso evidenziate? Ma, indubbiamente, credo la manutenzione della strada, i lavori pubblici e anche, per quanto concerne noi, i controlli stradali, velocità, credo siano le problematiche maggiori che per il momento vengono segnalate. È un'occasione per chi magari ha delle problematiche oppure anche tempistiche che non può recarsi a Gubbio o anche usare i nuovi mezzi di cui dispongono, tipo PEC oppure altri canali. Qui siamo qui presenti fisicamente per qualsiasi esigenza, problematica e segnalazione che ritenete più opportuno fare. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi.